Non l'ha mai fatto, però poi... Beppe, non è parlato di sovranità monetaria o di signoraggi, che era forse così si azzerava un po' il debito. Beppe, scusa, 4-5 anni fa nel parlario, non è più parlato, eh? Beppe, scusa, 4-5 anni fa nel parlario, non è più parlato, eh? Beppe, scusa, secondo me questo era il primo punto essenziale? Sì, ma il punto essenziale, per farlo capire in una piazza, ci vogliono due ore di andare monetaria. No, in modo semplice, signor. Ma no, ci riprendiamo la nostra moneta con un referente... Perché il professor Auriti... Eh sì, appunto, siccome io... Ma faremo un referente sulla moneta, ci riprendiamo? Sì, sono le decisioni, ma non puoi prendere il suo sottilettoraggio io. Ma... E' una... Ma scusa, ma questo qui... E' una eventualità che si metterà su un referente. Ma questo qui era il punto, il primo punto delle cose, no? Ci riprendiamo la sovranità, è un problema. Ma quello dì, quello era il punto fondamentale, si azzerava il debito. Raffa! Mori! Raffa! 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 E' sempre regno! Grazie a tutti